I cavalli sono questi, abbiamo detto, per Red Fire Thor mi sembra dura, come anche per Larice e Jet, Negus Jet può fornire la sorpresa. Stanno andando, vi saluto e vi do appuntamento a sabato. Un saluto, ciao Gabriele. Teresco Artequinte, ottava ed ultima corsa all'ippodromo delle Capannelle, una prova per anziani sui 1640 metri, non partente, scusate, Odeon Jet, ritirato Rocaf, rimangono in 11 al via, 2 per Red Fire Thor, 3 Negus Jet, 4 Larice e Jet, 6 Popolo Baba, 7 Migenne, in seconda fila 8 Rugido GSM, 9 Pepe Dell'Aldio, 10 Renigno, 11 Palomitas, 12 Positano Dete, 13 Noir Dete. C'entra lo stacco, macchina che accelera, Migenne e Negus Jet lottano per il comando, con Negus che rientra a Migenne. Poi c'è Red Fire Thor, partito molto bene a seconda fila, Positano Dete filtra bene anche Pepe Dell'Aldio, che già lì, ancora Noir Dete in terza pariglia, in ultima posizione c'è Palomitas, Negus Jet ha respinto, Migenne che si è adeguato nella sua scia, c'è stato l'errore di Popolo Baba, adesso la volata di Remigno che fa un sol boccone dei due di testa e passa in vantaggio alla chiusura, poco prima della chiusura dei 600 metri, abbastanza svelti, in 43-8 Renigno a condurre, al suo esterno c'è Positano Dete, terza ruota faticosa per Palomitas, che scavalca Noir Dete, Renigno a condurre. Positano al suo esterno, di dentro ci sono Negus Jet e Migenne, di dentro anche il numero due Red Fire Thor, 59-800 di Renigno, che guarda tutti dall'alto, Positano Dete è ancora ben vitale nella sua schiena, scatta in terza ruota, Noir Dete va indietro Palomitas, chilometro di 1-12-8 per Renigno, che va ad attaccare in vantaggi 400 conclusivi, si porta dietro Negus Jet, Positano Dete è richiesto, Migenne senza spazio, scappa Renigno all'ingresso e retta arriva e prende 3 di vantaggio a Negus Jet, sembra aver fatto bene i conti Gennaro Casillo, deve solo amministrare in questi 100 metri finali, ha fatto il vuoto e va per la terza, a seguire finisce bene in Nordete, trovano un barco, anche Red Fire Thor nel finale, vince facilmente Renigno per il secondo, emerge Red Fire Thor per il terzo, e da rivedere, Pepe Dell'Alvio finisce all'interno di Negus Jet, 1-55-5, sul mio cronometro 1-12-2, la media al chilometro, terza vittoria a seguire per Renigno, Gennaro Casillo, perfetto in sulchi al suo allievo i colori della scuderia Re Artù, rivediamo la retta d'arrivo che è stata una formale passerella per Renigno, quota al Tote di 3,75, per il secondo la grossa sorpresa di Red Fire Thor, un bravo a Warner Martellini che presenta sempre al top i suoi allievi, per il terzo forse ancora a Noir Dete, su Pepe Dell'Alvio che è nascosto, e poi c'è un altro cavallo che dovrebbe essere Migenne per il quinto. Allora, da questa immagine si capisce poco, preghiamo la regia di mandare la ripresa dall'alto, probabilmente si dovrebbe riuscire a capire di più. Un ordine d'arrivo ufficioso dovrebbe parlare a favore di Renigno, numero 10, sul numero 2, Red Fire Thor, poi probabilmente il 13, Noir Dete, a precedere il 9, Pepe Dell'Alvio, quinta posizione per il 7, Migenne, ma ripetiamo, è ufficioso. Le immagini che ci servono sono quelle dall'alto, queste qui non riusciamo da questa inquadratura a capire bene, quindi tutto direi per questa giornata di corse, diamo la linea alla regia di Roma, vi salutiamo e diamo appuntamento per la prossima giornata di corse per sabato 23 maggio. Un saluto a tutti, Devone Ricardona. Grazie a tutti.